Amici di Teledeon, bentrovati a questo nuovo appuntamento con speciale interviste. Siamo nel periodo natalizio e parlare di conti e di economia, della situazione di crisi generalizzata non soltanto dell'Italia ma un po' di tutto il pianeta, non è certamente un'operazione piacevole, ma è necessario affrontare alcuni argomenti perché sono di grande interesse per i nostri cittadini e devo fare un ringraziamento di cuore ai nostri due ospiti che vado subito a presentare e salutare perché ci rendiamo conto che sono messi in una situazione di imbarazzo per quello che stanno per raccontare, ma dobbiamo dire che le banche in questo momento davvero questa volta centrano poco con le difficoltà economiche dei nostri cittadini e anche delle imprese. Per cui ringrazio davvero di cuore Paolo Porziotta, presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca di Andria e il direttore generale dello stesso Istituto di Credito Nicola Bitetto. Grazie ad entrambi per essere qui. Di che cosa ci vogliamo occupare? Del fatto che in questo periodo dell'anno, oltre alla situazione inflattiva che sta creando non pochi problemi a chi deve fare la spesa quotidianamente, oltre ai problemi di approvvigionamento di luce e gas che stanno creando anche qui problemi per il pagamento delle bollette, Un altro grave problema che si sta verificando è quello dell'aumento dei mutui, delle rate dei mutui, soprattutto di quelli, anzi esclusivamente in particolare, di quelli che hanno sottoscritto mutui a tasso variabile, quindi non fisso, ma che risponde alle logiche di mercato. Allora, Presidente, cerchiamo di inquadrare la situazione, perché io faccio il ragionamento proprio che si fa il telespettatore medio, quello che è a digiuno completamente di economia. Io ho una rata del mutuo di casa, per l'acquisto della prima casa, di, dico una cifra tanto per dire, 500 euro, so che la Banca Centrale Europea ha aumentato il tasso di interesse del 2%, 2,5% negli ultimi mesi, mi aspetto di pagare una rata di 510, 520 euro. Invece mi ritrovo con 700, 800, a volte anche 900 euro di rata mensile. Da cosa dipende tutto questo? Riusciamo a far capire al nostro telespettatore che non è la cattiveria della Banca che decide improvvisamente di far pagare di più questi prestiti? Sì, anzitutto grazie anche a voi tutti di Zeledeon per l'invito, perché consente a noi, specialmente banca locale, quindi molto più vicina alle sensibilità dei cittadini, insomma, di cercare di fare un po' il punto della situazione, anche perché in una situazione del genere direi che proprio le banche c'entrano poco quanto nulla. Le decisioni sono prese in Europa, sono prese in sede di BCE e hanno deciso questo aumento dei tassi. BCE che poi, come meglio dirà il direttore, non sono poi tutti uguali, ci sono tassi e tassi, quindi impatti diversi sulle... Ricordiamo che BCE sta per Banca Centrale Europea, cioè la banca delle banche, tanto per intenderci. Che determina quella che è la politica monetaria, soprattutto monetaria, quindi l'impatto... Nei paesi dell'Unione. Esattamente. Volevo fare però una piccola premessa. Meno male che veniamo da quasi un decennio di tassi, direi stagnanti se non addirittura negativi, perché abbiamo assistito anche a questa situazione, è in un periodo in cui le banche hanno spesso scelto il tasso fisso. E' chiaro che vorrei fare una seconda precisazione, ci occupiamo in questo caso del mutuo prima casa, che è quello che impatta maggiormente sulla fascia della popolazione più giovane e più forse debole, più fragile, e quindi lascerei da parte situazioni diverse, anche perché il mutuo di investimento nell'acquisto di una seconda casa o di altre case, diciamo, è sempre più, ahimè, marginale nell'economia italiana, che non è un buon segnale. Certo, anche questo. Il mutuo, come dire, commerciale è una cosa diversa, perché riguarda un'attività che va posta in essere, ovviamente abbiamo degli impatti anche lì, però concentriamoci su questo. Quindi, meno male che veniamo da tanti anni in cui si è lavorato a tasso fisso. Per cui, onestamente, diciamo, questo grande impatto è più mediatico che non sostanziale. Questa è una buona notizia. Per esempio, all'interno della banca di Andria, avete un'idea della percentuale tra quelli che hanno fatto il mutuo fisso e quelli a tasso variabile? Noi ci siamo sempre mossi con il tasso variabile, che non deve essere visto come un monstrum, perché il tasso variabile, chiaramente, è quello che mediamente assicura il tasso più conveniente a livello puntuale. Probabilmente il discorso è da spostare sul tipo di tasso BCE a cui si fa riferimento, ma dagli approfondimenti tecnici lascio volentieri la parola al direttore, e nello stesso tempo ad alcuni accorgimenti che noi consigliamo sempre. Allora, anzitutto va chiarito che quando il cliente si avvicina al mutuo, l'informazione che gli è data è sempre completa. E quindi sa bene che quando c'è un mutuo, come si vuol dire, indicizzato, è un mutuo che può crescere nella rate come può scendere. Era abbastanza chiaro a tutti che avendo dei tassi negativi per cui arrivavamo ad applicare lo spread, cioè praticamente il differenziale che è il margine di intermediazione previsto per la banca, giusto per intenderci, era difficile pensare che quella situazione potesse durare all'infinito e comunque essere ancora più vantaggiosa perché eravamo proprio, diciamo... C'era da dargli altri soldi praticamente. Probabilmente oggi che invece qualcosa si è mossa, ma siamo sempre nell'ambito di mutui che navigano sul 3-4% ancora, quindi non siamo ancora a un'esplosione clamorosa, io penso che i nuovi prodotti che si sono affacciati sul mercato, cosa che per esempio noi proponiamo, sono i mutui con il famoso CAP, cioè ti dai un tetto e quindi chiaramente puoi muoverti in un range che se è positivo ti consente un risparmio, se è negativo però arriva a un certo punto. E quindi come dire, non la rende più una scommessa pura, consentitemi questo termine, ma una valutazione anche un po' più ponderata. Diciamo che chi sceglie il tasso fisso è quasi sempre gente che ha vissuto anche come famiglia le esperienze degli anni 70 e 80, quando l'inflazione viaggiava a due cifre e allora avere un tasso variabile diventava veramente un'impresa titanica. Sì, Francesco, però ti devo dire onestamente che molto dipende dalla politica delle banche, in che senso, noi abbiamo assistito a questi anni ai maggiori istituti che l'hanno lavorato sul tasso fisso, ma perché hanno fatto delle ricoperture ovviamente, hanno lavorato sul tasso fisso. E meno male, dico io, perché questo oggi è quel famoso paracadute, perché tu immagina se avessimo lavorato solo con i variabili cosa sarebbe successo. Oggi per assurdo il fisso è molto difficile, nella proposta bancaria è difficile che ti diano il prodotto a tasso fisso e quando c'è il prodotto a tasso fisso è un prodotto che costa molto di più. Quindi tu, considerando un mutuo medio che oggi si aggira sui 20 anni, anche quella speranza di ritornare a risparmiare qualcosina te la giochi in considerazione di preferire invece una tassa che rimane costante nel tempo, perché oggi un mutuo a tasso fisso lo puoi andare a chiudere anche a valori che sono vicini al 5%. Ecco, diciamo che può essere anche, va anche detto, che chi ha fatto la scelta del tasso fisso dice, fino adesso io ho pagato molto di più di quello che state pagando adesso con il tasso variabile, quindi perché vi lamentate voi in questo momento, mentre io mi dovrei lamentare tutta la vita praticamente? Sbaglio? No, no, direi che come spiegazione è corretta. Un anno fa, ecco così non è che stiamo parlando, un anno fa chi aveva il variabile ballava, il fisso si era caricato di una rata un po' più alta in riferimento, però dormiva a sonni tranquilli. Devo dirti nella mia esperienza, oltre che come Presidente della Banca, ma come notaio, che diciamo l'80% delle operazioni si faceva sul fisso, l'italiano è sempre prudente, quando si tratta della prima casa è prudentissimo. Ripeto, questo grazie a Dio, ribadisco, perché poi alla fine questo impatto, è chiaro che io ragionerei più che altro su quello che è successo. Sulla prospettiva, e ne parleremo tra pochissimo, però vorrei coinvolgere proprio per gli aspetti tecnici il direttore generale, perché, lo dicevamo prima, dipende sempre dal tipo di mutuo che la banca va a proporre. E qui abbiamo un panorama ricchissimo, e quindi quel ragionamento che ho fatto all'inizio, dell'aumento del 2%, quindi 10 euro, 20 euro, in realtà non sta né in piedi, né in cielo né in terra, perché bisogna vedere tanti altri parametri. No, io credo che innanzitutto bisogna un attimo ricordare dove eravamo all'inizio dell'anno e dove siamo adesso, perché questo credo sia fondamentale per capire un attimo quello che è successo e la dinamica che stiamo vivendo. Allora, avevamo all'inizio anno uno stato di stagnazione, se non addirittura di deflazione, sicché la BCE per stimolare i consumi, gli investimenti, cosa ha fatto? Si è inventata dei finanziamenti denominati TL, TRO, Targeted Long Term, Financing Operation, praticamente, in buona sostanza. Le banche che facevano costituivano a garanzia titoli di Stato e ottenevano questi finanziamenti da BCE non a un tasso negativo, quindi non pagandoli, ma venendo addirittura remunerati all'1%. Questo cosa comportava? Che le banche potevano, nel proporre finanziamenti alla clientela, sia corporate che retail, quindi sia aziende che persone fisiche, famiglie, dei tassi molto bassi, ok? C'è chi ha optato... Possiamo dire, quando si intende tassi bassi, stiamo parlando dell'1%, 2%? Dei tassi... parliamo genericamente di tassi finiti, ok? Poi distinguiamo fra tassi fissi e tassi variabili, molto bassi comunque, genericamente. Abbiamo visto, ci sono banche che hanno fatto lo 0,80%, l'1% e via discorrendo. Allora, chi ha fatto i tassi variabili li aggancia ad un parametro, un parametro di riferimento che può essere l'Euribor a un mese, laddove ci troviamo, come facciamo noi di fronte. Euribor sarebbero i... E' uno di quei tassi, diciamo, che sono soggetti poi ad oscillazioni... Europei. Europei, che dipendono però dal tasso padre, che è quello BCE. Sì. Ok. Ci sono banche che invece l'hanno agganciato al tasso BCE stesso. Poi c'è chi ha fatto il tasso fisso, perché, diciamo, come diceva il Presidente, l'italiano medio è molto prudente e quindi ha fatto il tasso fisso, pagando un po' di più, però, diciamo, avendo una certezza... Scaricando sulla banca in realtà poi... Esatto. L'eventuale. Questo cosa comportava dall'altro lato per le banche, per cui le banche sono soggette a tanti paletti che poi la gente comune poco conosce. C'è un rischio tasso di interesse se fai il fisso, perché ovviamente se uno scenario di tasse è rialzo, poi la banca alla fine ci viene a perdere. Certo. E allora, che faceva la banca? Si copriva con dei derivati di copertura, cioè in pratica era una sorta di titoli che scommettevano invece sul rialzo dei tassi. Ok. Per cui, alla fine, quello che perdevano da un lato guadagnavano dall'altro. E copriva. Giusto per semplificare un po' le cose. Tornando al discorso dei tassi variabili, allora noi per esempio agganciamo i nostri finanziamenti all'Euriborio, ipotizzando diciamo una rata mensile che è quella più comune, all'Euriborio è un mese. L'Euriborio è un mese, adesso è poco meno dello 0,90. Per cui il rialzo dei tassi è di scarso un punto. Cioè. E' chiaro che chi... E quindi non siamo ai due e mezzo della banca centrale europea. Però è chiaro che ci sono banche che hanno agganciato il finanziamento al tasso BCE. Allora, se c'era uno spread, quindi un differenziale di partenza, facciamo un esempio, del 2%, adesso è del 4,75. E lì abbiamo più che un raddoppio ovviamente di quella che è la rata che si pagava prima. Quindi chi pagava 500 euro si trova a pagare 1000 euro, quasi. Quasi, più o meno, insomma, adesso diciamo. Quindi dipende dal tipo di contratto con la singola banca. Esatto, dipende dal tipo di contratto con la singola banca. Perché adesso, diciamo, la BCE con qualcosa che, diciamo, è al limite delle lecità ha cambiato le carte in tavola. Allora, quei finanziamenti noi adesso... E' rassicurante questa sua affermazione, devo dire. Purtroppo bisogna dire le cose come stanno. Quindi noi adesso, quei finanziamenti che abbiamo già preso a giugno del 2021, che scadranno a giugno del 2023, li stiamo pagando al 2,75. È chiaro. Per cui i nuovi mutui... Dovranno partire da quella base... Bravissimo. Bravissimo. Per andare in più. Ecco, una situazione davvero complicata. Ecco, ma prima di arrivare alle prospettive, possiamo anche dire che questo... La situazione determinata dall'aumento attraverso la BCE in realtà non dipende tutto dalla guerra. Perché, diciamo, i giornalisti semplificano moltissimo. La crisi dovuta alla guerra e dallo scarso approvvigionamento di benzina, diciamo, del gas e petrolio, ci sta portando a questa situazione. Ci sono altre variabili e soprattutto rinviene da un periodo precedente? Perfetto la tua domanda, una risposta. Assolutamente la guerra ha, come dire, aggravato ovviamente questa situazione, ha reso sicuramente più cari alcuni prodotti. Sicuramente il gas, voglio dire, sotto gli occhi di tutti. Ma sotto gli occhi di tutti era che un rialzo dei prezzi, materie prime e energia, era iniziato da tempo. Era già cominciato. E onestamente le logiche non erano né quelle della guerra, né quelle di, se non facili, intuibili, manovre speculative, che trovavano a loro volto una ragione su una necessità di preventare uno scossone a un'economia che onestamente noi vedevamo. E ti dico sinceramente, Francesco, che nei nostri consigli, nelle nostre riunioni, per quanto eravamo tranquilli su come ci stavamo muovendo, perché abbiamo sempre messo la banca in sicurezza e in sicurezza i nostri clienti, adesso faccelo dire con un minuto di orgoglio. No, no, certo. Noi reclami non ne abbiamo, situazioni problematiche non ne abbiamo, i nostri dati, i nostri codici sono in ordine, però eravamo preoccupati a livello diciamo globale, perché onestamente capisci bene che dopo un periodo di calma piatta, diciamo l'onda anomala ti fa paura ancora di più. Ed è quello, purtroppo, che si abbattuto e si abbatterà. Secondo me c'è un problema ancora più grave, che ovviamente vengono falcidiate le categorie più deboli, più fragili, più esposte. E questo è difficile che possa essere risolto solo con un'azione bancaria. Probabilmente bisogna muoversi e ci si sta muovendo oggettivamente a 360 gradi. Sento da ultimo che per esempio nella prossima manovra si sta, parlo del bilancio della finanziaria, si sta pensando a una norma che consenta uno switch da un variabile a un fisso, per lo meno per i mutui prima casa legati a parametri in sé che ovviamente tutelano le fasce, le categorie più fragili. Quindi voglio dire, credo che onestamente l'attenzione di tutti sia sul pezzo. Ecco, direttore, una delle ragioni per cui le banche questa volta davvero non c'entrano niente e sta nel fatto che quando il cliente alla fine non paga il problema vero ricade a quel punto sulla banca perché si tratta di crediti incagliati con tutte le procedure faragginose per il recupero, per la vendita all'incanto. Quindi possiamo dire che il vostro interesse è che il cliente possa ripagare correttamente il suo mutuo senza scossoni, dico bene? No, esattamente come lei sta dicendo. Anzi, io aggiungerei un'ulteriore cosa che magari il più non è nota. Anche la misura che magari il governo varierà avrà delle ricadute probabilmente anche sulle banche. Perché? Questa per esperienza vissuta nel periodo Covid. Il governo Conte che fece? Dice, varò le sospensioni dei mutui per le famiglie piuttosto che per le imprese in difficoltà. Benissimo. La prima sospensione concessa dal governo Conte fu dalla regolatore, quindi dalla Banca Centrale Europea, ritenuta come non una concessione o misura di forbearance per utilizzare un termine anglosassore. Che significa? È uno stadio, diciamo, una classificazione della clientela, quella di concessione, in cui tu dai una concessione di maggior favore a un cliente che di fatto è in difficoltà, come lo era nel periodo del Covid. Per cui noi, su quelle concessioni, applichiamo un tasso di svalutazione dei crediti, quindi che portiamo a conto economico, maggiore. Allora, nella prima manovra del governo Conte, la BCE riconobbe che non era una misura di forbearance per non colpire le banche. La seconda, varata dal governo Conte, la BCE ha detto, non me ne frega niente, scusate il termine, voi li segnate come concessioni e su quelli quindi accantonate di più. Accantonare di più significa... Accantonare di più significa... Togliere disponibilità liquida dal territorio e destinarla a copertura del credito. Significa portare a conto economico una copertura maggiore per quel credito che ha fruito della concessione. Adesso io non vorrei che questa nuova manovra del governo subisca lo stesso trattamento, perché la fa il governo italiano, ma poi è BCE che decide se o meno è una concessione o meno. Cosa voleva aggiungere? No, sorrido, perché voglio dire... Poi la problema... Diciamo, c'è queste cose, perché diciamo che... Un po' l'invidia anche degli altri, diciamo, cugini, fratelli... L'Italia ha un'economia molto solida, fondata sul bene primario che la casa. Credo che non abbia uguali in tutta Europa. E' chiaro che in Italia sul ragionamento... Ma è ancora così, perché negli ultimi anni mi sembra di aver notato un'inversione di tendenza, anche nell'accumulazione del patrimonio edilizio, mentre prima era largamente diffuso. Ti ringrazio per l'acuta riflessione. E' chiaro che siamo passati... Un po' ce la siamo stretti la cinghia, nel senso che siamo passati dalle operazioni in cui la casa era un bene di investimento, quindi parlo della logica delle seconde, delle terze case, di lasciare il famoso al dopo di noi, ma non solo. Diciamo, erano veri e propri beni da mettere a rendita e poi da poter monetizzare in caso di necessità. Abbiamo vissuto una lunga stagione in cui l'Italia ha operato in questo modo. C'era il cosiddetto partito del mattone. Oggi diciamo che probabilmente il mercato immobiliare, il mercato finanziario legato al mercato immobiliare è prima casa, appunto. Poi ci sono dei margini di investimento ancora, ma sono concentrati in aree particolari che offrono per natura grandi città, città turistiche, possibilità di rendite sul mattone, come si diceva una volta. Però è ovvio che i numeri sono... ma nonostante i numeri sono scesi, diciamo che la giovane coppia alla casa propria in Italia non rinunzia. Viva Dio! Perché io penso che sia uno dei modi di essere forti, quelli di essere padroni a casa propria. Ma questa è una mia valutazione. Cosa succede? Che chiaramente questo problema è molto più avvertito in Italia rispetto a... e impatta molto più di in Italia una eventuale valutazione di questo genere, quella che differiva il direttore, rispetto a... Ma ora, al di là di questo, io penso che con una manovra che consenta uno switch, magari anche prendersi una rata leggermente più alta, ma tenersela costante nel tempo, la possibilità, oggi credo che con le banche l'interlocuzione è anche più facile, più diretta, quindi una possibilità di valutare operazioni diverse. Ecco, proprio di questo volevo parlare con il direttore. Appunto, le norme nazionali potrebbero prevedere questo switch, questo passaggio dal variabile al fisso, mettendogli un tetto e mettendo la possibilità appunto di governare questo momento di difficoltà. Ma chi non dovesse trovarsi in questa situazione o volesse non aspettare i tempi del governo, può fare riferimento alla banca per, anche qui banalizzo per rendere chiaro la situazione, a lungo i tempi, devo pagare ancora sette anni di mutuo, lo porto a dieci anni e vediamo un po' se si abbassa la rata. È possibile tecnicamente senza arrivare al fallimento? però diciamo il problema è quello a cui ce ne avevo prima, in questo caso sarebbe conclamata una misura, una concezione in buona sostanza, quindi la banca deve un attimo calibrare, deve vedere come fare a rientrare di quel credito per poterlo erogare nuovamente. di fatto. Noi per esempio abbiamo l'opzione del tasso fisso dopo il terzo anno di ammortamento del finanziamento, per cui diciamo abbiamo già messo in sicurezza, diciamo non per tutti i tipi di finanziamento, comunque per quelli in casa sicuramente sì. Quindi abbiamo già in pancia questo tipo di soluzione. Poi è chiaro che diciamo al cliente cosa gli si può consigliare? si può consigliare di provare presso un altro istituto un'eventuale surroga, questa è l'unica cosa che mi viene in mente di possibile, ma altre soluzioni sì, negoziare con la banca un eventuale allungamento. Allungamento. E sempre nella facoltà della banca puoi accettare lo meno. Accettare chiaramente, bisogna vedere le condizioni complessive, perché se tutti quanti si presentassero domani mattina dall'assesso istituto a chiedere la cosa ovviamente non sarebbe possibile. Ecco, però una delle cose che ai cittadini comuni sfugge quando sente parlare delle decisioni della banca centrale europea è perché in Europa si lavora soltanto sull'aspetto economico-finanziario, mentre l'impatto che stanno avendo le decisioni della Federal Reserve in America negli Stati Uniti è molto diverso, perché lì il picco dell'inflazione già sembra, almeno gli ultimi indicatori dicono che sta scendendo l'inflazione, quindi le decisioni prese dalla Fed stanno avendo un impatto molto diverso da quelle della BCE. Perché? Siamo scemini italiani e europei. lascio volentieri la parola al direttore sull'aspetto tecnico, però mi consentitevi una battuta, diciamo gli Stati Uniti di America sono gli Stati Uniti di America e non sono l'Europa, noi dobbiamo anche capire che sono... Cioè noi non siamo gli Stati Uniti d'Europa, noi siamo ancora la sommatoria di tanti comuni, la sommatoria di più stati sovrani, che piaccia o meno. Ecco, prego. Allora, no, riparto dal discorso iniziale, quello che dicevo prima, dove eravamo e dove siamo. Allora, all'inizio eravamo in una situazione di deflazione, abbiamo detto, quindi la BCE stimolava l'economia mettendo liquidità nel sistema. Adesso siamo in una situazione assolutamente opposta, nel senso che l'obiettivo è sempre quello di stabilizzare l'inflazione, che era il 2%, se non ricordo male. E quindi, immettendo liquidità, si cercava di far girare come si dice l'economia. Adesso invece l'obiettivo dell'aumento dei tassi è l'opposto, frenare i consumi e frenare gli investimenti. Quindi, morale della favola, loro stanno agendo cercando di abbassare l'inflazione solo con una politica monetaria, perché su quella hanno titolo di decidere. E lì c'è tutto il problema. Esattamente, probabilmente, ma io sono l'ultima persona che possa dirlo, insomma, una combinazione di manovra fiscale e manovra monetaria sarebbe più auspicabile, soltanto che invece... Dovrebbe essere poi il singolo Stato, quindi l'Italia, a dover procedere sull'aspetto fiscale. Esatto, ma come, insomma, non sono stato, non penso di essere l'unico a dirlo, il bonus della comunità europea è proprio quello che, diciamo, abbiamo fatto un'unità monetaria, ma non poi... Ma non politica, dice sempre il nodo della questione, anche se questo momento per la politica... Quindi il paragone con la Fed viene immediatamente a decadere. Perché loro probabilmente avranno combinato sia politica monetaria e politica fiscale e quindi magari con maggiore politica fiscale e meno politica monetaria. Si diceva un tempo si muovono come un solo uomo. Sì, no? Presidente, la guerra continua e continuerà secondo gli analisti americani, in questo caso almeno fino alla prossima estate, sperando naturalmente che questa previsione possa essere smentita e si trovi subito un accordo. La situazione quindi del gas e del petrolio sarà più o meno la stessa per tutto il 2023. La situazione economica, non solo per le famiglie, ma anche per le imprese, in questo territorio, quello che gestisce la sua banca, in che condizioni sarà? Riusciamo a reggere ancora queste fibrillazioni anche per il prossimo anno? Caro Francesco, io penso che ormai diciamo il re è nudo. Io penso che abbiamo capito tutti, piaccia o non piaccia, che è il tempo di prendere delle decisioni importanti e serie. non è possibile che l'energia che consumiamo, che è la nostra vita, proprio in senso proprio economico, dipenda dalla buona volontà di altre nazioni. Perché è giusto, insomma, è corretto, laddove queste nazioni abbiano valutazioni diverse, ovviamente questo ci espone a dei contraccolpi. quindi accanto a una programmazione di stoccaggio di riserve, credo che ci si stia inevitabilmente muovendo correttamente in questo senso, io credo che ormai è inevitabile una programmazione come si chiama? Transizione verso la transizione ecologica che è fatta dal nucleare, insomma, che ci prendiamo in giro. Magari il nucleare di nuova generazione? Assolutamente, sì, ma poi voglio dire lo diciamo ma lo sanno tutti, in Francia c'è, in Svizzera c'è, in Austria c'è, cioè voglio dire... Diciamo che c'è un'ipocrisia tutta italiana che non vogliamo il nucleare da noi ma lo compriamo, compriamo l'energia prodotta, pagandola, cioè voglio dire la Francia... Ma prodotta sempre col nucleare. La Francia l'impatto che abbiamo avuto noi non l'ha avuto. C'è un solo motivo che se la fa a casa e ce la vende a caro prezzo e ce la vende quando vuole. Quando? E allora io ringrazio davvero di cuore per la presenza, per la disponibilità e anche per la capacità di far capire ai nostri telespettatori che cosa sta accadendo realmente. Ringrazio Paolo Porziotta, presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca di Andria. Ringrazio di cuore anche Nicola Bitetto, direttore generale della stessa Banca di Andria. Grazie per essere stati con noi. Naturalmente torneremo ad invitarvi qualora ci siano delle condizioni ci si augura migliori anche per fare un po' il punto dell'economia di questo territorio che davvero potrebbe essere considerata una fucina per nuove imprese e per nuovi sviluppi. Questo è l'augurio che facciamo a voi della Banca ma anche agli stessi nostri telespettatori. Grazie al nostro pubblico nei prossimi giorni, nelle prossime ore ancora con speciali interviste. Buonasera.